No il che video è No no il che video è no 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 oggi ti avevo sonno Oggi ho sonno Ho fatto un sogno bruttissimo Ho sognato che era domenica E dovevo registrare il che video è Proprio quando avevo sonno Aspettate un attimo Ma oggi è domenica No volevo dormire E ciao a tutti ragazzi sono Lorenzo E sono in ritardo Si perchè in teoria dovevo registrare il che video è Due ore fa ma volevo dormire Ho dormito Sto registrando il che video è adesso E lo vedrete tardissimo Vi prego fatemi degli applausi Bravo 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 Comunque E ciao a tutti ragazzi sono Lorenzo E ben ritornati qua come ogni domenica Sul che video è Insieme allo spepe occhiali E qualche altro personaggio del tipo L'etichetta di Freddy Perché questa puntata sarà incentrata sull'etichetta di Freddy Scusate tantissimo se mi sono fatto attendere Mi dispeso tantissimo Tutta colpa delle golie Alla frutta c e ne prendo una Limone fa schifo però va bene lo stesso Ma ragazzi banda le ciance E direi di iniziare con i primissimi video Di questo che video è Musica maestro Eccoci ragazzi finalmente sul mio canale E dove è l'ultimo che video è che ho fatto Il che video è numero 49 Quindi questo è l'episodio numero 50 Bisogna festeggiare Sassuela 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 Cinquantissimo episodio del che video è E direi di iniziare con il primissimo video Di il che video è che me lo manda Andera vivace fans Che scrive guarda assolutamente Per favore Guardiamo questo Vediamo Gatti che ballano Wego 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 Ma sono sincronizzati sti gatti La caramella si fa ancora sentire Comunque Va bene Passiamo al prossimo Allora guardiamo il secondo video Di Andera vivace fans Spero tanto che non siano sui gatti Ovviamente è su Five Nights at Freddy's E dura 16 minuti Però vediamolo Cinque secondi Cinque secondi Questo è il film di Five Nights at Freddy's Fatto Della Iron Studio Sì però Vai avanti Che figo Già così Guardate Un cantiere Che rumori brutti Che rumori brutti Raga Ma che Ma che cosa Ma non così Ma non potete iniziare così Ma perché Ragazzi Ricordatevi Le biondine Nei film horror Sono le prime a morire Oh mio Dio È veramente Realistico Ovviamente Le biondine ci vogliono sempre Ovviamente la biondina ci è morta malissimo Secondo me il film poteva anche finire così Ma comunque bellissimo Grazie per avermi inviato questo video Poi lo guardo tutto E raga Passiamo al prossimo video Il prossimo video Me lo invia Peach Kid Gaming Che scrive Lore Guarda L Allora guardiamo il video Baroness Von 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 Per Caped E Carla Maria Per Magman Per caso È un video Sheep No No Il cover Chi se ne frega di Caped Magman Nelle ship Perché Mi metto nel cover Ok dopo queste ship Dopo Katy Perry Lady Gaga E compagnia bella Passiamo al prossimo video Ragazzi Il prossimo video Di questo che video Me lo manda Wolfox Che scrive Lore Guarda L O E guardiamo il video Basta Solo Lore Guardalo Get out of my car Vai via Vai fuori Vai fuori dalla mia macchina L'audio che segue Al 100% reale Se lo dici tu Ci credo Fuori dalla mia auto Sono di fronte ad una fottuta idiota Esci Ora Stai facendo Ora Sei all'ospedale Dove Dove dovresti scendere Dalla mia auto Potresti portarla fuori dall'auto Noo Cioè è fatta apposta Ma perché Non l'ho capita Perché ste imbecilli Non l'ho capito Perché Perché mi dovete fare vedere Ste cose Non lo capisco Che ci fa una carta Ingenica Ma perché Dico Ma perché Dico io Ragazzi Il prossimo video Di questo che video è Me lo invia Just Deca Che scrive Ragazzi Spolliciate l'ora E guardalo 49 Ovviamente hashtag 49 tutta la vita Hashtag Tanto la vittoria Tutta la vita Oh mio dio Che cos'è questa roba Vi avverto Non dormirete la notte Pronti Via Probabilmente Allora L'inizio Può sembrare normale Può sembrare una cosa bella Può sembrare una cosa carina Ma poi Cosa può succedere mai Essere creativi Cosa vi piace far A me l'essere creativo Da dove prendi le idee Penso sempre creativamente Ora guardate l'arancia qui Dovete pensare sempre creativamente Cosa vedete Ditelo a me È solo un'arancia normale Forse per te Ma non per me Vedo una faccia buffa Che sorride e cammina Non riesco a capir Perché non pensi con creatività Ma quanto è figo quel robo Vi prego Ma quanto è bello Ora Se guardate le nuvole in cielo Non le trovate divertenti No Forza Provate di nuovo Oh sì Vedo un capello Un gatto un po' bello Vedo un uomo con la Ma trovate il bollino Ora vedo un cane Ora vedo rane Una scala in legno Con il tuo scuola Sanamente Sono tutti così creativi Che pensano entrambi La stessa cosa Che creatività Ragazzi siate creativi Le voci nella testa Cos'è sta roba Cos'è sta roba Cos'è sta roba Ragazzi Ragazzi Non impazzite in questo momento Non impazzite vi prego Ecco Ecco Siamo impazziti Siamo impazziti Siamo impazziti Ok per voi è troppo Per voi è troppo Ci sono un botte di episodi di sta roba Vedeteli voi E il prossimo video di questo Che è il video Ragazzi Troppi video Oggi Troppi video Me lo manda Asics05 No Caparezza di fa stare bene Ragazzi A sto punto direi di passare Commenti Più recente di questo Che video è Andiamo appunto Dal più recente Ragazzi Io direi di andare a vedere L'ultimo video Di questo Che video è Lo so Lo so Lo so ragazzi Sembra durare così poco Il che video è Però ragazzi Io non posso far durare Il che video è Più di 15 minuti Però vediamo il video Goku Power Ciccio Gamer Shooting Star E dopo questa E dopo questa E dopo questa Voglio vederlo Basta Perché Ovviamente 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 È partito Ciccio E Niente Ragazzi Visto che Quello là Si chiamava Goku Power Io direi di vedere La potenza Di Goku Mastered Ultra Extinct Aaaaaaa siiii Aaaaaa siiii Goku basta n'è di Ultra X! X! Uoooooooh Oh mio dio, oh mio dio, oh mio dio Oh mio dio, faggielo vedere Goku! Faggielo vedere! Troppa, troppa eccitazione, troppa eccitazione Basta, 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 il mio cuore sta esplodendo Troppa eccitazione, troppa Ragazzi io direi che il video di oggi lo posso anche terminare qua Cinquantesimo episodio del che video è Spero tantissimo che vi sia piaciuto Per la prossima volta inviatemi un voto di Youtube Pup Su Dragon Ball Super Ragazzi il video di oggi lo posso anche terminare qua Spero tantissimo che vi sia piaciuto E ragazzi se non siete ancora iscritti al canale Che cosa aspettate Iscrivetevi immediatamente Per il prossimo episodio del che video Cerchiamo di raggiungere 1232,10,1 like Seguitemi su Facebook e su Instagram E noi ci vediamo al prossimo video Eeeeee Ciao